La fiscalità degli enti non commerciali è il titolo del corso finalizzato ad analizzare gli aspetti civilistici e fiscali degli enti de quo. L'ordinamento legislativo da sempre ha riconosciuto un particolare regime fiscale di favore verso gli enti non commerciali che soddisfano in forma associativa finalità di indubbio interesse sociali, enti quindi meritevoli di tutele e incentivazioni. Gli enti di tipo associativo non commerciali, agevolati dalla normativa fiscale di quegli articoli 148 di PR 917-86, articolo 4 di PR 7372, nonché legge 398-91, risultano esseri seguenti. Associazioni politiche sindacali e di categoria religiosa, assistenziale, culturale, sportive, dilettantistiche di promozione sociale. Il corso in questione vuole rappresentare un valido strumento di supporto operativo rivolto a tutti i professionisti che svolgono attività di consulenza nei confronti degli enti non commerciali.